messaggio della regina del rosario della pace nel 18 febbraio 2017 la pace miei figli amati la pace figli miei io vostra madre vengo dal cielo per concedere ai vostri cuori il mio amore materno amore che vince e distrugge animale amore che vi protegge e vi libera da ogni città spirituale pregate figli miei per appartenere sempre al regno dei cieli al regno che mio figlio divino vi ha preparato non allontanatevi dalla via santa di Dio siate di mio figlio Gesù mettendo in pratica i suoi insegnamenti santi e vivendo l'amore con tutti i vostri fratelli guarite i vostri cuori ferite e lesionate nell'amore di mio figlio finché imparate ad amare e a perdonare come veri figli di Dio e figli miei io vi amo e non voglio la disunione ma l'unione l'amore e la pace tornate alle vostre case con la pace di Dio vi benedico tutti nel nome del padre del figlio e dello spirito grazie a tutti